Se tra oggi e domani non vedremo svuotate queste vasche che si sono formate, è già stata allertata la struttura della manutenzione del comune, quindi interverrà il comune stesso e poi farà rivalza nei confronti della proprietà per i costi subiti. Qualcosa potrebbe finalmente muoversi in via Fabio Filzi, dove dovrebbe sorgere la nuova sede della Polizia Municipale. E' infatti scaduta oggi la proroga all'ordinanza del sindaco per il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere da parte della società. Una proroga concessa per consentire specifiche analisi prima di poter scaricare liquidi nella fognatura pubblica, ma ad oggi il raccruppamento di imprese, tra cui una banca che ha la proprietà dell'immobile, non ha iniziato i lavori. Ci penserà così adesso l'amministrazione comunale. Poi dopo ovviamente bisognerà intervenire per mettere in sicurezza il cantiere, cioè per impedire che venga utilizzato in maniera impropria, per liberare questi posti auto. Quindi nulla, è questa la situazione. Purtroppo ci siamo trovati, malgrado in questa situazione, l'immobile di proprietà private non è del comune, quindi non è un appalto standard per cui viene operato su proprietà comunali, per ripresa degli privati e noi quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, allora a quel punto agiremo in forza. Il comune aveva già proceduto alla risoluzione del contratto di esecuzione per inadempienza, aveva cercato anche un nuovo esecutore, ma ancora ad oggi sul destino della struttura aleggia un grande punto interrogativo. Abbiamo lavorato con la proprietà, che è l'istituto bancario, per cercare di riprendere i lavori con un nuovo soggetto esecutore. Ci sono delle difficoltà su questo, quindi sono scaduti i tempi, quindi la prima operazione è mettere in sicurezza, poi la successiva vedremo come comportarsi nei confronti della proprietà per capire che fine può fare questo immobile. Le strade percorribili sono tre, un contenzioso, molto probabile ci si vada, l'acquisizione dell'immobile e in ultima che era la strada che in qualche modo si cercava di intraprendere, ma ci sono delle problemate, ovviamente bisogna procedere nel rispetto delle norme, delle leggi che sono complesse. Era quello di poter proseguire i lavori con una nuova ditta, che però non è che è una ditta che individua il comune, è tutta un'operazione che è nella liberalità del soggetto concedente, quindi è l'istituto di credito. Quindi questi sono i tre scenari. Ad oggi occupiamoci di mettere in sicurezza perché ovviamente i cittadini lamentano dei disagi, capisco, e quindi bisogna operare.